signori buongiorno buonasera dovremmo dire siamo quasi alle 5 del pomeriggio e benvenuti al casino della valle di san ben sanno ho messo tutta la nottata per impararla questa perdonate abbiamo abbiamo fatto aspettare un pochino perché abbiamo un po di gente alla cassa e volevamo far sedere più persone possibili prima di cominciare allora siamo tutti schierati io cercherò di essere velocissimo perché so che fremete non vedete l'ora di cominciare però mi andava di presentarvi la nuova squadra per questo per la partenza di questo pp tour 2015 nuova più che altro c'è c'è poco di nuovo tanti siamo siamo in tanti quelli della della squadra storica vecchia di sempre allora innanzitutto comincio da tutti quelli che sono dietro le quinte ovvero chi il fotografo i cameraman la regia e quindi tutta la squadra con fabio antonio vincenzo ale e fiore che sono impegnati nelle operazioni di regia quindi sono davvero gli unici che non si vedono poi abbiamo francesco e raffaele alla gestione del tavolo tv e poi qui ho la squadra più operativa sulla comunicazione antonio e rosaria quindi comunica di stampa social e quant'altro giù lui altro elemento nuovo perché cosa abbiamo fatto la prima versione la fase di test è stata quella di campione d'italia abbiamo risposto un bellissimo successo c'è stato molto rumors mi riferisco alle scommesse giù è qui perché da questa tappa oltre alla prima al primo elenco di numeri che già partito e per il quale sono arrivate già tantissime scommesse ovvero la last longer del primo elenco dei giocatori che avevamo già a disposizione come iscritti si ricomincerà da domani ci saranno gli elenchi del possibile vincitore e quant'altro e soprattutto si faranno le scommesse live sul final table quindi giù seguirà mano dopo mano e le quote di ogni giocatore saranno aggiornate mano dopo mano questa è un'altra grande novità di questo libro spogger tool 2015 ma la novità più bella è lui ovviamente la novità più bella è Pamela la nostra madrina chi è qui con tante novità allora partiamo dalla prima io faccio più cacciare e infatti la prima il il cellfone al tavolo il cellfone al tavolo c'era un cinese prima che un beccato mi ha venduto ah quindi l'abbiamo proprio comprato dal cinese certo per fare il self al tavolo quindi spero che intanto per fare un self ci vuole un lampo di secondo e poi il pipi quiz ok si che si tratta perché mi guardi no e chiedevo è il pipo al poker qui ok perché pp quiz pp quiz ppt insomma è un gioco di parole dove io oggi andrò alla ricerca di questi otto giocatori che si sfideranno a duello ma non parleremo di poker a pensi di altro non di cose divertenti indovinelli problemi di logica vediamo se i giocatori nostri sono pronti anche ad altro oltre al poker e vi conviene partecipare perché perché ci saranno dei premi in valio quindi mettersi in gioco in questa competizione nella competizione può essere qualcosa di molto simpatico per i primi quattro classificati abbiamo quattro premi esatto il terzo e quarto un caricatore portatile per smartphone quelli che sono comodi perché questi iphone durano neanche mezza giornata poi il secondo posto vincerà un ticket per partecipare al las vega sunday sulla piattaforma il nostro domenicale invece il primo un mese di ticket pagato per partecipare sempre al las vega sunday quindi il controllo di 200 euro di ticket niente male quindi state attenti a pamela che girerà per i tavoli perché girerà per selezionarvi perché bisognerà essere molto svegli per partecipare e soprattutto per vincere ahimè devo dare un'altra notizia pamela è qui col suo inseparabile compagno filippo bisciglia che viene qui per giocare purtroppo non la lascia mai da sola quindi mi dispiace ragazzi vabbè gioca e arriva in giro lui gioca arriva in giro se vi va chiamate voi pamela per il serpone dal tavolo altrimenti passerà lei e vi toccherà è fare fare questo seppi spero di esserci anche io da qualche parte ebbene ovvio ci tengo adesso invece andiamo velocissimi tocca all'altro capellone come me il direttore del torneo danilo de berardinis che ovviamente darà tutte le informazioni tecniche sul torneo perché adesso arriviamo alla ciccia quella vera va bene signori anche da parte mia vi do il buonasera benvenuti al casino della valle due secondi vi do il giusto due informazioni tecniche ovviamente lo stack iniziale di 25.000 i livelli sono da 60 minuti faremo sempre 15 minuti di pausa ogni due livelli avrete un'ora di pausa cena quindi 60 minuti pausa cena al termine del quarto livello che sarà intorno alle otto e mezza la late registration così come il periodo utile per effettuare un rientri sarà entrato nel sesto livello questo per il main e anche per i site ovvero ovvero anche per i site event tutti i nostri eventi avranno una late registration di 6 livelli quindi sarà possibile iscriversi al main event entrano in oltre le 23 e 50 più o meno ultimi due dettagli tavolo tv sempre attivo dal primo momento infatti ci sono già questi giocatori li abbiamo fatti alzare per non dargli le spalle e ogni due ore si girerà insomma sarà selezionato un tavolo e nella pausa questo tavolo sarà spostato tutto materialmente sul tavolo tv per il commento con le telecamere dedicate con la telecamera del mondo altro piccolo dettaglio ticket cena per i nostri qualificati online è stato distribuito il ticket già al momento dell'iscrizione chiunque altro volesse acquistare il ticket cena per il buffet può farlo passerà una hostess dell'organizzazione del casino e il ticket cena a un costo di 15 euro e il cena buffet nella sala ristorante quella con le vetrate del parco d'Alviglia a un'escrizione chiunque Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' bello, è bellissimo il nostro pipollo. Quindi ci siamo, senza altre parole, dile, sciacquo l'appendito. Buon divertimento a tutti, buon lavoro a tutti.